Martina è un'adolescente che attraverso il pole dance ha mandato un messaggio potentissimo a tutti i suoi coetane. Stasera ho deciso di portarvi una storia che parla di noi adolescenti, che spesso facciamo fatica ad accettarci. Le auditions sono state un'emozione incredibile. La tua forza, l'immagine che dai, il specchio tutto insieme, non sapevo dove guardare te al specchio, diventa un'arte di un livello più alto. Mi ha fatto molto piacere il fatto che siano andati oltre all'aspetto sportivo, perché è stato un lavoro che ho fatto dentro di me. Dopo le audizioni mi sono sentita molto più sicura e molto più forte. In finale scoprirò una nuova versione di me stessa, scoprirò una donna che è cresciuta e che non ha più paura di essere triste, non ha paura di essere felice, non ha più paura delle sue insicurezze. It's not simple to say, most days, I don't recognize one day's shoes in this apron, that place and its patrons, I still remember that girl. She is messy, but she's kind, she is lonely, most of the time, she is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, she is gone, but she used to be mine, she is gone, but she used to be mine, you're not what I ask for, if I'm honest I know, I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending or two. For the girl that I knew, for the girl that I knew, for the girl that I knew, who'll be worthless, just in love, who'll get hurt, but who learns how to toughen up when she's bruised, and gets used by a man who can't love, and then she'll get stuck and be scared. For the girl that I knew, she's done, it's not easy. Grazie a tutti She is gone but she used to be mine Bravissima Martina Bravissima, bello Sorti Vieni qua Ciao Martina Complimenti, vieni Martina Vieni Stasera davvero ci state emozionando Tutti qua Ammazza, fantastico Tra lei l'ha messa in scena Ciao Martina Devo dire sei stata veramente formidabile In un insieme faboloso Veramente emozionante, commovente Veramente abbiamo trattenuto a stento Devo dire brava, bravino, bello, bellissimo Il numero di pole dance più originale che abbia mai visto nella mia vita Federica Tu che sei un atleta, no? È difficile questa roba qua No, è impossibile Impossibile Poi farlo così con la sua grazia Sembra fare tutto quello che ha fatto facilmente Ma è una cosa difficilissima Infatti c'è l'espressione del volto Devo dire tu reciti con il corpo E con gli occhi No Martina sei stata incredibile Veramente A tempo con la grazia Sei arte Tu sei un pezzo d'arte Veramente Bravissima Veramente Bravissima Martina Adesso io vi ricordo il codice di Martina Che è lo 05 Quindi codice 05 per Martina Storti Martina, grazie davvero Brava Benveni Siete benveni My favorite Grazie